Amara sorpresa questa mattina nel corso del sopraluogo per la cerimonia finale dei cinquantesimi premi internazionali Flaiano in programma domenica 2 luglio. Gli organizzatori si sono imbattuti in un cantiere appena aperto per l'impermeabilizzazione degli spalti. Lavori evidentemente autorizzati dagli uffici comunali che si sono guardati bene dall'avvisare, nonostante un regolare contratto d'affitto dal 26 giugno al 2 luglio, del teatro d'annunzio sottoscritto dall'associazione Flaiano con l'ente Manifestazioni Pescheresi. In questa situazione l'evento rischia di saltare. Questo ovviamente non ci consente di poter far andare avanti il Flaiano Film Festival perché capite bene che non soltanto c'è un cantiere aperto e le regole minime sono quelle che quando c'è un cantiere non ci sono le persone. In più c'è il materiale tossico che viene usato perché è vernice quindi in questo momento stiamo decidendo che cosa fare. Certo magari informarci sarebbe stato corretto però mi spiace che non sia andata così. Voi avete firmato un contratto, avete pagato un affitto regolarmente e malgrado tutto questo. Nessuno vi ha detto che i lavori sarebbero iniziati questa mattina, tra l'altro lo sa tutto il mondo che c'è il Flaiano Film Festival e che il 2 luglio c'è tra l'altro una cerimonia con ospiti internazionali. Abbiamo firmato un contratto il 7 marzo del 2023, avevamo già all'epoca dato la metà dell'anticipo, 3860 euro il costo complessivo. Poi abbiamo sottoscritto appunto il contratto pagato il 50%, il 18 di giugno abbiamo pagato il restante 50%, quindi c'è un rapporto anche negoziale che va rispettato. Nel contratto era espressamente prevista la disponibilità del teatro d'annunzio dal 26 giugno al 2 luglio per la serata finale. Evidentemente questo accordo contrattuale non è stato rispettato perché non si può aprire un cantiere in un teatro che deve accogliere il pubblico. E ovviamente a questo punto chiedete la sospensione immediata e urgente dei lavori. Tra l'altro le dico in più che i film che stiamo proiettando non possono essere proiettati in altri luoghi, cioè in cinema, perché hanno una formula particolare, mi dicevi, un formato diverso. Quindi i film sono stati noleggiati con quel formato. Vediamo cosa accade. A questo punto io non devo pensare che probabilmente la serata di oggi verrà sospesa. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni.